un'altra erba molto buona da poter consumare cruda in una buona misticanza è il rosolaccio rosolaccio che sarebbe la rosetta basale del papavero la riconoscete perché la foglia è pennatosetta dentellata e partita è pelosetta quindi facilmente riconoscibile perché al tatto è pelosetta e la rosetta basale prima della fioritura eccola qua questa è un ottima è un'ottima pianta da consumare cruda in una misticanza magari insieme a degli strigoli insieme ai caccialepre insieme a della rucola selvatica e questa è la rosetta basale del papavero mi raccomando di cogliere le erbe lontano da strade e lontano da fonte di inquinamento e provatele perché sono questo è considerato un erbo dolce erbo perché noi toscana le erbe silvate le chiamiamo erbi e e che dire buona misticanza a tutti grazie 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 a tutti